Non si placano le polemiche sul disegno di legge di riforma degli enti locali che ha iniziato il suiter in Consiglio regionale. A prendere posizione oggi sono i sindaci di Ololai, Fisio Arbau e di Seulo Enrico Murgia. La riforma degli enti locali, approvata in Commissione Autonomia dal Consiglio regionale, ha un buco al centro, sottolineano i primi cittadini dei centri che danno il nome alle rispettive barbage. Questo buco è rappresentato dalla Sardegna centrale, montana e rurale, che nel disegno viene smembrata tra le nuove province che rinascono al sud e le vecchie province che persistono al nord. Province che, scrivono Arbau e Murgia, sono viceversa morte per mano referendaria e per decisione statale. La nostra proposta, rilevano i due primi cittadini, è rivolta a tutti i sindaci dei paesi montani e rurali della Sardegna centrale ed in sintesi è quella di costruire una grande unione dei comuni montani, con poteri identici a quelli della città metropolitana di Cagliari, che metta assieme tutti gli enti territoriali montani con l'obiettivo di difendere le risorse e di servizi esistenti, ma anche a programmare insieme e in un ambito omogeneo per identità, ambiente ed economia. Per gestire poi i servizi si potranno utilizzare gli strumenti della Convenzione e dei subambiti per regioni storiche. Secondo Arbau e Murgia, l'unione montana e rurale, una sorta di città di campagna diffusa, abbracerebbe le tre barbage del gen argento con una popolazione numerosa ed una estensione territoriale superiore a tutti gli altri enti locali sardi. Un soggetto che rappresenterebbe un interlocutore forte per la regione e persino per lo Stato. Intanto di riforma degli enti locali si parlerà a Nuoro lunedì nel corso di una riunione del Consiglio Comunale.